Un minuto con padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo in un piccolo angolo del giardino dei frati minori Cappuccini con un testo di padre Marcellino Iassenzaniro. Intanto voi vedete sempre scorrere in sovraimpressione un indirizzo di posta elettronica a cui rivolgere la vostra attenzione per raccontare la vostra testimonianza. Le stiamo raccontando tutte, le racconteremo tutte perché sono una più bella dell'altra. Ma oggi vogliamo dedicare la nostra attenzione su quell'opera stupenda, magnifica, che ha avuto l'intuizione di creare, di far costruire. Bene, parliamo dell'opera di padre Pio, della casa sollievo della sofferenza. Ma oggi vogliamo tornare all'inaugurazione del registro dei visitatori della casa sollievo della sofferenza a cui padre Pio fu invitato perché aprisse proprio lui quella serie di riflessioni alla vista di quell'opera magnifica della provvidenza. Allora padre Pio lasciò il convento accompagnato da alcuni confratelli ma una volta che si trovò davanti al registro e gli passò ad altri la penna che gli era stata offerta. Non ci fu verso che egli scrivesse per primo e rimase in attesa. Vedendo che uno si prolungava nell'andare a stendere tutte le diverse espressioni, gli disse, ehi, e non la fare troppo così fine, altrimenti mi fai scomparire. Però arrivato poi il suo turno, scrisse A chi la gloria? Al dottor Sanguinetti? Al lupi? Ma, puntini di riflessione, diciamo gloria a Dio. Agli occhi dei confratelli, scrive padre Marcellino Senzanino nel suo testo, a prima vista poteva apparire che padre Pio avesse come incarnata nella sua persona la virtù dell'umiltà, tanto da non fare fatica alcuna per praticarla. In realtà non era così. Fa osservare proprio un suo discepolo, padre Alberto d'Apolito. Padre Alberto era uno di quei fratini che spesso abbiamo raccontato, faceva parte del seminario nei primi anni in cui padre Pio era qui e poi divenne sacerdote. Scrive padre Alberto, Il padre metteva in atto, momento per momento, con estrema diligenza e cura, quello che ci insegnava quando eravamo fratini, l'umiltà. L'umiltà è il fondamento della vita religiosa e della santità. Ed è ovvio, scrive padre Marcellino, che la pratica perfetta di qualunque virtù è frutto di uno sforzo continuo ed immane, nonostante l'apparente facilità con cui uno può mascherarlo. Grazie a tutti.